Benvenuti sul canale LentiCar, oggi vediamo uno dei nostri stock più interessanti, PandaVan usate e garantite. Il Fiat PandaVan è un veicolo commerciale versatile ed efficiente, perfetto per le esigenze di qualsiasi attività. Con il nostro stock di Fiat PandaVan usati avrete la possibilità di acquistare un mezzo che vi garantirà un'ottima performance su strada e una lunga durata nel tempo. Stock PandaVan, sempre variegato, grazie a continui arrivi, disponibili infatti 4x4, GPL, benzina, diesel Euro 6 e Euro 5 e metano, tutte a partire da 20.000 km. Il design elegante e moderno del Fiat PandaVan si adatta perfettamente all'immagine aziendale, grazie al suo motore efficiente e al suo prezzo conveniente, vi permetterà di risparmiare denaro. Il Fiat PandaVan è perfetto per la tua attività, sia che tu debba trasportare merci o persone. La sua versatilità ti permetterà di adattarlo alle tue esigenze specifiche. Con il suo design accattivante attirerà l'attenzione di tutti e ti garantirà un'ottima visibilità su strada. Il Fiat PandaVan è dotato di una serie di caratteristiche che lo rendono perfetto per le esigenze commerciali. Ad esempio, nonostante le dimensioni esterne, è dotato di una cabina spaziosa e comoda per il conducente, con sedile e volante regolabili, per garantire il massimo comfort durante i lunghi viaggi. Il Fiat PandaVan è anche dotato di una serie di caratteristiche di sicurezza avanzate, come i freni a disco e antibloccaggio, che vi garantiranno una guida sicura e stabile in ogni situazione. Il Fiat PandaVan in diverse versioni, oltre a diversi allestimenti del cassone, come i laboratori itineranti, sono spesso disponibili con radio, bluetooth e volante attivo. Tutte le nostre PandaVan sono dotate di sistema di climatizzazione, che vi garantirà il massimo comfort in ogni situazione climatica. Cosa aspetti allora? Vai su lenticar.it e scegli la tua PandaVan, anche in stock per aziende, oppure vieni direttamente a trovarci in sede a Castelletto di Branduzzo in provincia di Pavia. Ciao!